Quando segniamo un cavallo, il cavallo può dare delle reazioni un po' particolari. Allora dobbiamo controllare alcune cose della schiena del cavallo. Prima, che il garese sia in ordine, che non abbia fiaccature e che sia a posto. Secondo, che il cavallo non abbia mal di schiena. Con una pressione possiamo vedere che il cavallo reagisce alle pressioni della schiena. Quindi il cavallo ha leggermente mal di schiena. Un'altra cosa da controllare è che dove va il sottopancia il cavallo abbia una reazione verso l'alto dovuta allo sterno. Questo vuol dire che è regolare, ha dei riflessi normali, nella norma. Grazie.